Puntata dello sportello del cittadino riservata all'ADOC Puglia. Quest'oggi parliamo di pubblicità ingannevole e lo facciamo con Giulia Procino, l'avvocato Giulia Procino, che è una dei legali dell'ADOC Puglia. La pubblicità è l'anima del commercio, noi viviamo di pubblicità, però purtroppo nell'ambito pubblicitario gli inganni sono all'ordine del giorno. Quanti casi ci saranno capitati e vi saranno capitati? L'ADOC è l'associazione dei consumatori che si occupa anche di valutare se una pubblicità può essere considerata ingannevole nel momento in cui ci perviene una segnalazione da parte del consumatore e poi valutare se effettivamente trasmette la segnalazione all'autorità della concorrenza del mercato, che è poi l'autorità che effettivamente verifica e sanziona le imprese produttrici. Una pubblicità può essere considerata ingannevole nel momento in cui induce in errore il consumatore, invogliandoli in un certo senso a fare degli acquisti che diversamente non avrebbe fatto. L'ingannevolezza può riguardare diversi aspetti, può riguardare il prezzo del prodotto, piuttosto che la durata di una determinata produzione, i costi di trasporto, eccetera. Chi disciplina la materia della pubblicità ingannevole è il codice del consumo che stabilisce che affinché una pubblicità possa essere considerata ingannevole è indispensabile valutare ogni singolo elemento della pubblicità, quindi chi le impersonifica, che cosa viene riferito, in che modo viene riferito e chi si occupa di valutare se effettivamente una pubblicità è ingannevole o meno è, come abbiamo riferito, l'autorità della concorrenza del mercato, cosiddetto antitrust, che valuta su segnalazione dei consumatori e soprattutto delle associazioni dei consumatori se una pubblicità è ingannevole e commina anche delle sanzioni che arrivano fino alla sospensione dello spot pubblicitario, fino a 30 giorni, nell'ipotesi in cui avvisata, ammonita l'impresa di eliminare o comunque di correggere lo spot pubblicitario, ovviamente l'impresa non vi abbia provveduto. Ci sono tanti casi di pubblicità ingannevole, ma un esempio, quello che mi viene in mente, è quello di circa un anno fa di una nota casa produttrice di automobili che aveva pubblicizzato, incentivava l'acquisto di autovetture, di una nota autovettura convincendo il consumatore ad acquistare questa macchina perché avrebbe avuto uno sconto sulla benzina l'avrebbe pagata ad un euro sino al 2015. In realtà all'antitrust sono arrivate numerose contestazioni dell'associazione dei consumatori perché si è scoperto che questa agevolazione, cioè il fatto che la benzina costasse un euro fino al 2015, era in realtà solamente pubblicità ingannevole perché al consumatore veniva messo a disposizione un certo quantitativo di benzina al costo di un euro. Quindi era una pubblicità appunto ingannevole.